L'ho detto l'altra volta, lo riconfermo oggi. Non è una coincidenza, non può essere tale. È un fattore, fattore Caicedo, fattore Lazio, fattore Inzaghi, una squadra che non molla sino all'ultimo secondo. L'avete visto o no Inzaghi? Sbracciarsi! A tempo scaduto! Tempo scaduto, sbracciarsi. Non è una coincidenza. C'è chi lo chiama volgarmente culo. Non è culo. Quello ti può aiutare una volta, ti può aiutare due. Ma poi quando diventa un dato statistico che di volta in volta si allunga, fermiamoci. Fermiamoci e valutiamo. Valutiamo una squadra che non molla, che ci crede sino all'ultimo secondo. Valutiamolo! Non possiamo etichettare tutto con la parola culo. No, non funziona così. Non è così. Una squadra che ci ha creduto è una squadra che ha meritato il pareggio. Per come l'ha impostata, per il calcio che ha proposto, per come l'ha portata avanti e come l'ha condotta sta gara. La Lazio meritava il pareggio. Indubbiamente sì. E cosa ha fatto Correa? Cosa ha fatto Correa? Io adoro, e ne vedo sempre meno purtroppo, ma adoro chi riesce a creare superiorità numerica, con tecnica, con dribbling, con qualità, con audacia, con follia e magia. Bravo, bravo Correa. Mamma mia, perché specialmente oggi, dove c'è troppo tatticismo, abbiamo bisogno di queste personalità. Abbiamo bisogno di giocatori che saltano l'uomo e ne vedo sempre meno. Faccio complimenti a Correa e li faccio dall'altro lato. Perché questo, sino all'ultimo minuto, questo video si doveva intitolare soltanto, sapete come, Juan Guilherme Quadrado. Perché dall'altra parte abbiamo Quadrado. Stessa roba. Da dove nasce il gol della Juventus? Da dove nasce? Da Juan Guilherme Quadrado. Capace di saltare due uomini, capace di creare superiorità numerica, capace di andare lì sul laterale, mettere la palla in mezzo. Juan Guilherme Quadrado. Giocatori che saltano l'uomo, che creano superiorità, che ti mettono in difficoltà la difesa avversaria, che altrimenti è sempre ben piazzata. Abbiamo bisogno di questi giocatori qua, per vedere sempre con occhi diversi questo sport che noi amiamo tanto. Ne abbiamo bisogno, punto, stop. E ho detto, la Lazio ha fatto una partita che mi è piaciuta tantissimo. La Juventus ha giocato di rimessa e di rimessa ha messo su dei contropiedi, comunque, tanto di cappello. Dove sbaglia la Juventus oggi? Praticamente solo nel concludere in porta. La Juventus ha fatto la sua partita di rimessa, non l'ha chiusa. Non l'ha chiusa, l'ha lasciata aperta e la Lazio ha meritato di pareggiarla, sta gara qua. L'avesse chiusa, c'erano poche storie, ecco, c'erano pochi cazzi. Mi ricordo un contropiede strepitoso nel primo tempo, dove porta Ronaldo a concludere e a prendere il palo. E si è parlato del palo, del palo di Ronaldo? No, parliamo dell'azione, perché è l'azione che è degna di nota, non soltanto il palo di Ronaldo. Parliamo dell'azione. L'azione che nasce da un Danilo, anche lui quest'anno uomo in più della Juventus, perché Danilo sta facendo delle prestazioni incredibili, che con una finta praticamente riesce sia a recuperare palla su Marusic, ma riesce anche a driblarlo. Lo dribble, scarica su Morata, Morata protezione palla e sta facendo un lavoro, Morata incredibilmente, incredibile, incredibile, perché al di là dei gol sta lavorando tanto e bene per la squadra. Morata che protegge la palla, conduce, porta avanti, scarica su Kulusevski ed è stata un'azione da contropiede fatta all'allegri maniera, se vogliamo, perfetta. All'allegri maniera. Nel secondo tempo ha avuto un'altra occasione con Rabiot che tira e compagnia bella. È stata una bella gara, mi sono piaciuto perché entrambe le squadre hanno fatto il loro gioco. La Lazio, conducendo bene, palleggiando e avendo comunque dalla sua, la conduzione del gioco, la conduzione del gioco, una Juventus che ha giocato di ripartenze e quelle ripartenze che ha fatto molte volte sono state micidiali, sono state ben fatte, ma è mancato il gol da una parte e dall'altra. La partita poi si è annullata in un pari come giusto che sia. Allora, sull'occasione di Murici, ecco, mi voglio fermare e poi chiudo, valutiamo anche quanto vale un certo immobile, che spesso snobbiamo, spesso stiamo lì sempre a derubargli qualcosa, stiamo sempre lì a speculare su questo giocatore qua, a dire sì ma segna sul rigore. Sul rigore, ecco, valutiamolo quando non c'è Ciro Immobile perché Murici, tutto quello che vuoi, mi piace, si muova anche bene, tanti inserimenti, tante volte va in profondità col tempo giusto, servito sempre a dovere tra Correa e Luis Alberto, Ma valutiamolo lì, valutiamolo nel killer instinct, valutiamolo nell'area piccola. Dove sta la differenza tra Immobile e altri attaccanti? Vedi, Murici non ci arriva per un pelo, Immobile ci sarebbe arrivato e sembra, sembra una differenza piccola. Parlo del colpo di testa dell'assist di Milinkovic a Murici nel primo tempo, sembra una differenza piccola, ma è una differenza che fa sì che sia gol o non gol. Sembra una roba piccola piccola piccola, quel ci arrivo o non ci arrivo, ma fa la differenza tra gol e non gol. E non è poco, e non è veramente poco. E niente, questa è, bella partita, bel pareggio, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate se vi va, perché no, iscrivetevi al canale. Ah, l'ultima cosa che voglio dirla, l'ultima cosa che voglio dirla, che sono stato sempre un amante di Paolo Di Bala, sono stato sempre lì a dire, mamma mia questo giocatore, mamma mia come ci incanta. A livello di personalità, non ci siamo proprio, a livello di personalità sono delusissimo da questo giocatore, che oggi ancora una volta si dimostra irriconoscibile, ancora una volta delle pagliacciate, si butta a terra su Milinkovic e Savic, ecco, ieri è stato munito riperì per simulazione, quella di oggi è simulazione, quella di oggi è simulazione, quella è simulazione. Cioè, non ti tocca Milinkovic e Savic, stai lì, a cadere si vede platealmente senza che nessuno ti tocchi, poi rimane a terra, fai finta che ti fa male la gamba, quella è simulazione. O è fallo o è simulazione, non era fallo, e l'abbiamo visto, quella è simulazione. E' deluso, molto molto deluso dalla personalità di Paolo Di Bala, non dalle doti tecniche, dalla personalità, dal carattere, è un'altra roba, è un'altra cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likecate e iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio, da Neschio. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likecate e iscrivetevi al canale. Grazie.